Segretario, partiamo dalle ultime criticità che si sono verificate qui al penitenziario di Avellino, una notizia che tra l'altro ha avuto anche risalto nazionale. L'ultimo evento, anche se è stato descritto in maniera sbagliata da qualcuno, comunque al di là che il sequestro non c'è stato, è un fatto grave, ma grave nella misura in cui è stato riportato, ma non grave perché sia insolito. Sono eventi che accadono ormai, non dico tutti i giorni, ma quasi, soprattutto in un istituto come questo in cui c'è una tipologia varia di detenuti, anche di una certa rilevanza criminale, e qui sono abbastanza liberi i detenuti di muoversi. Quindi per quanto ci risulta sono state pure organizzate delle spiolizioni punitive tra una sezione e l'altra, tra un braccio e l'altro. Il problema qual è? Il problema è che questa è un'amministrazione, io parlo in generale, ma poi se volete nello specifico parliamo anche di Avellino, come credo sia più importante, visto che siamo qui. Il problema generale è che questa è un'amministrazione che oscilla sempre, e ne fa le spese il personale, tra una visione permissivista, i detenuti lasciamoli stare, facciamoli muovere, diamogli il più possibile, è una visione che invece è più custodialista, più, diciamo, virgolettando, repressiva. E il problema è notevolmente serio, laddove bisogna considerare che assai spesso, benché la norma penitenziaria sia una, la legge è una, il personale a volte non sa neanche come comportarsi. Qui poi il problema è che c'è una carenza fortissima di personale. Ho detto varie tipologie, andiamo dalla media sicurezza all'alta sicurezza. E ci sono anche dei cosiddetti protetti, che sono collaboratori, o comunque dei detenuti che non possono stare con gli altri. Una carenza di personale che è notevolissima, considerate che l'organico ministeriale, cioè l'organico con decreto del Ministro della Giustizia, parla di 297 unità. Qui ce ne sono 124, più il nucleo traduzione, più 33 sono quelli che non sono qui, ma sono all'ICAM di Lauro, insomma. E che, voglio dire, secondo noi, abusivamente sono stati inseriti in quello organico, perché un decreto ministeriale non può essere superato da una circolare interna. Quindi c'è una carenza di personale. Questo è un istituto in cui di recente sono stati avvicendati, direttore e comandante, sono state date delle precise indicazioni, noi le chiamiamo prescrizioni, che non sono state di massimo. L'amministrazione centrale, il Dipartimento, venendo qui ha notato tutta una serie di, come posso dire, di irregolarità, di inadempimenti, eccetera, non sono state ancora attuate quelle prescrizioni. Quindi è un istituto, secondo noi, ancora in grossa confusione organizzativa a gestionare. Perché poi il nuovo direttore c'è solo da sei mesi. Questo significa che gestire un istituto del genere, con poco personale, con una carenza grandissima, soprattutto di personale dei ruoli, diciamo inferiori, agenti, assistenti, anche in parte sovrintendenti, inferiori, diciamo, dell'ordine gerarchico, in cui, tra l'altro, assai spesso mancano riferimenti per dire la notte, perché il personale è poco, quindi i servizi notturni sono quelli più penalizzati in termini numerici, in cui ancora non si è capito se deve essere applicato maggior rigore o meno rigore. È chiaro che i detenuti la fanno da padroni e il detenuto, purtroppo, in Italia ha capito, non solo qui, che più, diciamo, problemi crei e più viene accontentato. Speriamo che una nuova gestione dell'amministrazione, un nuovo governo cambino le regole. Questo è tutto. Insomma, qui, quello che è successo anche l'ultima volta è legato a questo clima di incertezza, di insicurezza, diciamolo pure, a uno stato generale di abbandono. Basta la lettura degli eventi critici dell'Istituto di Avellino per accorgersi che qua l'allarme suona due o tre volte al giorno, perché i detenuti, essendo liberi, fanno prima prepotenze tra di loro, poi quando interviene il personale nell'azione di contenimento si rivoltano contro. Due detenuti sono andati in escandescenza, uno ha messo una lametta in borca e questa è la dinamica che succede sempre. Quindi sono corse, suonato l'allarme, sono stati contenuti. Non ci risulta, dalle fonti poi ufficiali, interne, che è dalle nostre voci di dentro, che sono quelle più attendibili, perché stanno lì a soffrire in questo sistema. Abbiamo avuto poi quella notizia... Il sequestro non è venuto allora? No, allora il sequestro non è venuto. Quell'altra cosa è che il detenuto è salito sui tetti per protesta, contemporaneamente è salito su un finestrone poco alto, quindi non ci stanno lì. Poi l'aggressione alle agenti, con le lamette no, per un detenuto ha ingoiato una lametta come sono solito loro fare. Io adesso non mi intrometto nei fatti di altri sindacati, perché voi conoscete la mia storia, non mi intrometto, però il diritto di cronaca deve essere rispettato come lo è. Perciò non a caso un direttore davanti a un comunicato di un sindacato oggi in Italia è difficile che parli di procurato allarme, ma qua mi sembra proprio che ci siano le condizioni di aver generato quell'allarme che voi sapete, è intervenuto il prefetto, è intervenuto come responsabile dell'ordine pubblica, è intervenuto il dipartimento per conoscere la dinamica delle cose.